Un bilancio assolutamente positivo, quello che si può trarre dopo la prima giornata del ProTour Beach Volley 2017. La straordinaria cornice di Piazza Duomo ha regalato agli oltre mille spettatori uno spettacolo sportivo di altissima qualità. Anche gli organizzatori dell'evento confermano il grande tasso tecnico dei team coinvolti per la Kermess sportiva. Ancora in corso le gare per la composizione della fase finale della prima tappa che verrà disputata questa domenica. Dopo il primo turno per la categoria uomini sono previsti gli scontri Stati Uniti-Spagna, Brasile-Argentina, Cile-Portogallo, Emirati Arabi, Venezuela, Italia-Grecia. Mentre per le ragazze gli scontri di oggi sono Germania-Brasile, Ucraina-Svizzera e Stati Uniti-Brasile. Brasile che partecipa con due compagini. L'unica preoccupazione per gli organizzatori riguarda il bollettino meteo che prevede pioggia per la giornata di domenica. Salvo imprevisti meteo, domani calerà il sipario su questo torneo itinerante che ha puntato i riflettori sulla città di Giarre. Città che sempre più prende i connotati di vera e propria città dello sport e degli sportivi.